Grazie e poi si chiamano crini è la coda del come si chiamano? crini bravissimo si chiudete gli occhi io faccio una piccola macchina BOOM giudate al bordo la coda del cavallo e vedete è proprio la coda del cavallo che si chiamano crini però i crini la coda del cavallo da sola non basta per far suonare la scuola bisogna passaggi una sostanza che ci fa andare dagli alberi una sostanza pescicosissima la avete mai toccata? ma sei bravissima due qui vincita il tiro è bello quindi il violino è un strumento accorde giudicabile Sì, bravissima. Sì, bravissima. Sì, bravissima. Sì, bravissima. Non è possibile fare la bandana in basso. Anche tra le bandana in basso. Sì, bravissima. Quindi possiamo fare delle bandana in basso. Oggi possiamo fare delle bandana in basso. possiamo fare una tarantella. Delle invitazioni con gli olivi, per esempio sono fare la Formula 1, sentite come fare la Formula 1, la macchiamo in gioco. Adesso faccio un soppasso. Adesso faccio un soppasso e un... Adesso vi racconto una piccola storia sulle stagioni di Vivardi. Lo sapete, ci sono un oppositore che si chiama Danuva, che ha scritto una composizione molto bella. Lui era innamorato e aveva una chiesa di ragazze bravissime, molto belle, che giravano tutto il loro tempo d'Europa, dall'epoca. E inscriveva tantissimi visibili, tra cui, forse, mi sta la rumpere, che è la prima prima. A presto. A presto. A presto. A presto. Conoscevate questa? Facciamo un bel applauso al maestro, ragazzi. E' un bel applauso, ragazzi. E lui scriveva quello che chiedeva. E' un'esempio c'era in una, nell'estate, che descriveva un uccello che faceva cucù. E' un uccello che fa cucù. Cucù, cucù, cucù. Ecco, e lui, questa cucù, se ne prende questo uccellino e fa' già partecipare. E' un uccello che fa cucù. E' un uccello che fa cucù. Cucù, cucù, cucù. Cucù, cucù, cucù. E' un uccello che fa cucù. Grazie a tutti. Ragazzi io vorrei fare una domanda al maestro, ok? Allora io vedo che su questo strumento ci sono quattro corde, ok? E stanno lì e suonano tutti bene in armonia, vanno d'accordo, come vanno loro di loro si mettono d'accordo e fanno un gioco insieme. Ma tu come fai a mettere d'accordo queste corde? Eh, io faccio questo, come vedete, su uno strumento che è l'attualità al maestro. In via del passato ci stiamo, andiamo, se non erano uno strumentino, ho fatto uno di ferro, che tu lo battevi, mi mettevi, poi faceva la, e suonava una nuova. Io prendevo questa nota qui, e poi insieme, accordo le, mi metto, d'accordo. Quando noi passiamo, vedremo il tetto d'archi, tutta la famiglia degli archi, c'è il violino che è il più piccolo. Poi abbiamo la viola, che è leggermente il più grande. E' il contrapasso, che è quello più grande di tutti, è l'apologa, la voce più grave. La prossima settimana vedete il contrapasso. Grazie. Grazie.